Ciao a tutti, sono Sebastiano Ranfagni, responsabile del settore nuoto dell'RC6 Camp. Durante il camp i ragazzi verranno inizialmente suddivisi in gruppi in base alla fascia d'età e alla propedeutica al nuoto. Le fasce d'età comprendono dal primo anno esordienti B fino alla categoria ragazzi. I ragazzi svolgeranno durante la settimana sedute di propedeutica al nuoto, tecnica, forza e resistenza. Lo staff tecnico è curato da me e da Roberto e ci sono tutti i tecnici qualificati che operano nelle rispettive società. Durante la giornata oltre alle sedute in acqua che verranno svolte in vasca da 25 e da 50 ci saranno anche due sedute di functional activity, quindi ginnastica propedeutica comunque al nuoto. Vi aspettiamo numerosi e un ciao a tutti!